Buongiorno a tutti, allora, 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 campionato spagnolo, campionato tedesco, campionato inglese, campionato inglese che inizia subito con questa terza giornata con sorpresa, pronti via, partita del sabato e il pranzo, diciamo così, se hanno mangiato magari mangeranno dopo, quindi gli resterà dopo. Santa trippa bella umida in salmiche ogni tanto va giù, ogni tanto rimane qui e per l'Arsenal resta qui, la gara del pranzo delle 13.30 resta qui, perché il buon Arsenal, ahimè, dopo essere passato in vantaggio, e aver terminato il primo tempo sono 1-0, perde Rice che si fa espellere al 49esimo e Pedro, 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 Joao Pedrao, Joao Pedro, ancora lui, ancora tu Joao Pedro, pareggia dieci minuti dopo più o meno. E quindi per l'Arsenal già la terza giornata è deleteria, perché mi pareggia in casa con il Brighton, una partita che stava vincendo, ma all'altronde vero continua a dire il calcio, tu puoi stare lì a ragionare, a fare beh ma questi sicuramente vi... Poi succede il fattaccio che rimane in dieci o che cosa e cambia la partita, ma non te lo puoi immaginare, non lo puoi sapere. Perché questa è una partita che l'Arsenal se non rimaneva in dieci avrebbe molto probabilmente vinto. Resti in dieci a inizio secondo tempo, perché al 49esimo siamo al quarto minuto, devi giocare più di 40 minuti con l'uomo in meno contro un Brighton che comunque è una buona squadra e questi sono i risultati. Proseguiamo perché dopo l'1-1 tra Arsenal e Brighton c'è l'1-1 tra Nottingham Forest e Wolverhampton. Un pareggio che alla fine della fiera può far contenti tutte e due, forse molto più contento, il Wolverhampton che pareggia una gara esterna contro una pseudo diretta concorrente per le zone medio-basse della classifica. L'Aston Villa non senza difficoltà va a vincere in casa del Leicester 2-1, quindi Leicester che comunque da neopromosso dopo essere tornato nuovamente in Bundesliga in Premier League vorrà rimanerci. Anche perché ragazzi miei, Scudetto con Ranieri, poi piano piano c'è stato il declino fino alla retrocessione, adesso vorranno, non dico tornare a vincere uno Scudetto che quello è stato un caso più unico che raro, ma almeno rimanere in Premier per un po' di anni o forever. Vedremo, altra sfida tra squadre di medio-bassa classifica, l'Ipswich Town ne ho promosso, pareggia 1-1 in casa col Fulham, è stata la giornata dei gol, Arsenal Brighton gol, Nottingham Forest e Wolverhampton gol, Leicester City e Aston Villa gol o over due e mezzo a vostra scelta, l'Ipswich Town Fulham gol. Il Branford, ragazzi miei, batte nettamente in casa 3-1 il Sotenton, anche qui gol. Partita anche questa da libidine, quella tra Everton e Bornemov con la squadra marittima, chiamiamola così, perché a Bornemov, ve lo dico così, a un passant, si andava, tanti anni fa c'erano le offerte per andare a fare, imparare l'inglese sulla costa, perché sei al mare praticamente, certo fare il bagno al mare in Inghilterra anche se d'estate non credo che sia il massimo della vita, però Bornemov era una città per studenti che d'estate magari andavano a fare la vacanza a studio per imparare l'inglese. Comunque, sconfitta brutta per il Bornemov, perché comunque perdi in casa contro una pseudo, tra virgolette, diretta concorrente per la salvezza. E quindi anche per quest'anno l'Everton temo che si dovrà giocare la salvezza fino all'ultima giornata, come successe l'anno scorso. E non sempre puoi battere il Liverpool in casa 2-0, come successe l'anno scorso. Il Manchester City, ragazzi miei, sfrutta il pareggio tra Arsenal e Brighton per andare a vincere in casa del West Ham in maniera perentoria 3-1, dimostrando anche quest'anno di essere la squadra da battere in Premier. Naturalmente ci sono, le antagoniste ci sono, eh ragazzi. Non diamo per scontato che, però, il Manchester è la squadra che sta vincendo lo Scudetto negli ultimi anni della Premier e quindi è sempre quella da stagli addosso. Il Chelsea pareggia 1-1 col Crystal Palace e questa è un po' una sorpresa, visto che il Chelsea nello scorso turno ha vinto 6-2 contro il Wolverhampton, in casa del Wolverhampton, e ci si aspettava che con il Crystal Palace, squadra che comunque è da prendere con le molle, o con le pinze, giochi in casa, magari con fatica, ma almeno un 2-1 lo devi portare a casa, invece è solo 1-1, quindi come al solito il Chelsea fa il granchietto. Avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro. Il Newcastle batte 2-1 il Tottenham, e infine, ragazzi miei, il Liverpool demolisce il Manchester United 3-0. Io erroneamente avevo dato per scontato una partita con il gol perché lo United ci stava che potesse perdere con il Liverpool, ma mi aspettavo una vittoria tipo del Liverpool 2-1, 3-1 come il City, 2-3, 2-4, 1-2, ma non 1-0-3 così perentorio. E quindi qua mi sa che si prospetta, tra virgolette, poi l'Arsenal ha tutto il tempo per recuperare, ci mancherebbe, può capitare, soprattutto se rimane in 10. Però Liverpool e Manchester cominciano a smammare, come si suol dire. Quindi andiamo a vedere la classifica, se c'è solo Liverpool e Manchester City in testa al campionato, se magari c'è qualche sorpresina inaspettata che va a sostituire l'Arsenal, scusate il bronchino di Riace. Quindi classificao, meravigliao. City e Liverpool prime a 9 punti. Brighton, Arsenal e Newcastle a 7 punti. A 6 punti troviamo il sorprendente Brentford a pari merito con l'Aston Villa. A 5 punti Bournemouth e Nottingham Forest. A 4 punti Tottenham, Chelsea e Fulham. A 3 punti West Ham e Manchester United, che anche quest'anno, ahimè, il Manchester United non è dove ci si aspetterebbe che sia. 3 punticini alla terza giornata, sono un po' pochini. A un punto troviamo Leicester, Crystal Palace, Ipswich Town e Wolverhampton. E ancora a 0 punti Southampton e Everton. Direi che nelle zone basse della classifica ci sono le squadre più o meno che ti aspetti. Quindi la neopromossa di Ipswich Town. Però c'è da notare che l'altra neopromossa, dove è finita l'altra neopromossa, Ipswich Town è a un punto anche lui, sì. Ah no, è Ipswich Town. E dovrebbe essere il suo tento, sì. L'Everton, anche quest'anno, si dovrà giocare la salvezza. Un po' nelle bassi fondi il Crystal Palace, che l'anno scorso invece stava intorno alla decima-dodicesima posizione. Il Wolverhampton, anche l'anno scorso, ha cincischiato nelle zone medio-basse, anche se cercava di rimanere appena spena sopra. Ah, c'è il Lecester, anche lui neopromossa è a un punto, quindi sono tutte lì nelle zone basse della classifica. Nelle zone alte invece c'è la sorpresina Brentford, ha sei punti, le altre ci stanno tutti, i City, Liverpool, il Brighton era in zona comunque Europa, l'Arsenal è lì come tutti gli anni, un attimino, diciamo dietro, Tottenham e Chelsea, ma non lontanissime. Se vogliamo le sorprese sono il Bournemouth e Nottingham Forest, che si trovano a cinque punti, vicini alla zona Conference. Ma è presto, è ancora presto per tirare le somme, siamo solo alla terza giornata di 38. Indi, per cui ragazzi miei c'è ancora tutto, adesso si fermano per le nazionali con Star Nation League. Poi come finisce la Nation League, devono fare le qualifiche per i mondiali del 2026. Boh, vedremo, vedremo. Ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio, adesso andrò a vedere come è andata la Serie B, perché c'è questa Serie B libidine con tante sorprese, tante squadre in testa alla classifica che non ti aspetti, squadre che sono nei bassi fondi che non ti aspetti. La Serie B è sempre un terno all'otto, ecco, per intenderci. Può succedere di tutto e di più, possono salire in Serie A squadre che non ti aspetti, possono retrocedere squadre che non ti aspetti, e quindi per questo diventa interessante, anche se magari, tecnicamente non è eccezionale per me, anche se qualche gol libidine c'è anche in Serie B. Ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio, e ci vediamo alla prossima. Ciao!